la campanella chi piange e chi ride vediamo in che consiste questa tematica o questa problematica cari amici la campanella chi piange e chi ride si mostro questa cartolina perché ora questo ebook che da circa un anno sui web store in lingua italiana ora è sul web store mondiale in lingua inglese in lingua inglese va bene per cui lo possono leggere in tutto il mondo finalmente ma vediamo in che consiste questa tematica o questa problematica il fatto è che io questa mattina come tutte le mattine ero al mio bar dei cinesi qua nel mio paesello al bar dei cinesi ed ero lì molto presto alle 7 meno un quarto poi a una certa ora verso le 8 un quarto 8 e mezza è arrivata la figlia della proprietaria io la proprietaria la chiamo la regina è una cinese la chiamo la regina perché veramente ha un aspetto regale è una donna di una bellezza incredibile questa regina e c'è una bambinetta che ha un uomo italiano si chiama Isabella Isabella e a un certo punto alzo gli occhi dal pc e vedo che questa bambinetta che avrà 7-8 anni sta lì in un posto dove c'è anche il pc e vedo che questa bambinetta di 7-8 anni lavora sul pc allora mi sono ricordato che adesso suonano le campanelle nelle varie regioni italiane a seconda la data cambia a seconda delle regioni e io ho detto senti Isabella quando ci vai a scuola? quando iniziano le scuole? e lei mi dice iniziano venerdì venerdì mi pare che venerdì sia dopo domani mi pare oggi dovrebbe essere mercoledì se non vado errato e io le chiedo senti Isabella ma allora se le scuole iniziano venerdì a te ti viene da ridere o da piangere? e lei mi dice a me mi viene da piangere capito? questa bambinetta che forse andrà in seconda elementare suppongo dice mi viene da piangere e io lo dirò alla tua mamma che a te ti viene da piangere e poi nascono tante considerazioni perché io ho vissuto nel mondo della scuola lo conosco il mondo della scuola come mi suol dire in lungo e in largo tutta la mia vita è passata dentro la scuola è passata dentro la scuola perché ho fatto sono andato a scuola da bambino ho fatto le scuole medie superiori ho fatto le scuole medie superiori ho fatto l'università poi dopo ho fatto i concorsi e i concorsi ho fatto anche io il mio lungo periodo di precariato poi a un certo punto ho vinto il concorso a cattedra e sono entrato di ruolo come professore di filosofia e storia nei licei poi ho fatto un altro bel concorso e sono diventato preside di ruolo di licei nel frattempo io scrivevo anche tante belle cose e scrivevo proprio questi romanzi vedete che ho scritti quasi tutti questi romanzi lavorando di notte lavorando di notte perché io sono abituato a lavorare di notte dopo vi spiegherò perché sono abituato a lavorare di notte cari amici vi spiegherò perché sono abituato a lavorare di notte e allora lo conosco bene il mondo della scuola e non mi sono meravigliato che questa bambinetta di 7-8 anni mi dicesse quando le ho chiesto ma ti viene da ridere o ti viene da piangere? mi viene da piangere perché io da tempo immemorabile sono consapevole che quando arriva il suono della campanella ci sono delle categorie di persone che piangono allora quando suona la campanella piangono i professori, gli insegnanti e piangono gli studenti però quando suona la campanella ridono i genitori ridono i genitori e infatti in un certo video del passato mi pare di aver detto che Atene è famosa per aver inventato le scuole Atene, Atene, no? la famosa Atene la battaglia di Maradona la famosa Atene in un mio celebre video dell'antichità ho fatto un video elogiando le donne d'Atene perché Atene aveva inventato le scuole ma le scuole erano state inventate dalle donne dalle mogli dalle mogli atenesi e così si liberavano dei bambini carito? si liberavano dei bambini poi in un altro video avevo elogiato le donne di Sparta Sparta la guerriera perché le donne di Sparta in un certo senso avevano inventato la guerra in un certo senso infatti Sparta stava sempre in guerra e perché le donne avevano inventato la guerra? e così ma ai mariti si andavano si andavano al fronte e tornavano morti morti tornavano no? gli davano lo scudo le mogli spartane gli davano lo scudo al marito che stava per partire in guerra e gli dicevano torna con questo o su di questo capito? più chiaro di così se muore beh e allora tornando riprendendo il filo del discorso i professori piangono quando suona la campanella i professori piangono e lo dico con rispetto parlando perché anch'io sono stato professore il fatto è che quando suono la campanella i professori devono tornare in classe devono tornare in classe e tornano in classe dopo che hanno fatto due mesi le ferie una feriata di due mesi perché si lavora alla scuola sin verso il 30 giugno sì e no sì e no poi dal primo luglio al 31 agosto non si fa più nulla non lo dico alla romana lo dico in italiano non si fa più nulla poi si ricomincia a lavorare con le riunioni ai primi di settembre però le riunioni sono una cosa entrare in classe è un'altra cosa e quando suona la campanella che arriva il trauma per i professori perché dopo due mesi di ferie di riposo non è che tu entri in aula tutto felice e contento no e c'entri un po' incazzato perché ti è riabituato a stare a casa se tu stai a casa per due mesi a casa magari alle Seicelle alle Maldive in montagna ai monti al mare e pure la mattina non c'è bisogno che carichi la sveglia perché ti svegli quando ti pare e quando passa un mese 40 giorni 50 giorni ti pare che tutta la tua vita debba scorrere così e all'improvviso arriva il suono della campanella e cambia per cui arrivano a scuola tutti scusate il termine un po' incazzati piangono proprio come gli studenti anche gli studenti piangono e io mi ricordo che come preside dovevo fare i salti mortali per dare la garica ai professori quando facevamo i collegi dei docenti preliminari preliminari al suono della campanella e c'erano i docenti tutti con la testa bassa tutti infelici cazzati perché pensavano a quanto si stava bene io so dove al mare in montagna non so sono esclusi i precari da questo discorso perché i precari non vedono l'ora che suoni la campanella capito però io parlo della maggior parte dei docenti parlo dei docenti di ruolo quelli che hanno il posto fisso il posto fisso 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 dove non vengono schiodati nemmeno da una guerra si sta tanto bene col posto fisso c'è la sicurezza per tutta la vita però non parlo quindi dei precari e i precari sono tutti felici ma sono pochi felici e contenti quando sono alla campanella perché significa che hanno i soldi per mangiare e quindi questi professori io cercavo di raccontargli un po' di tutto a questi professori quanti ne raccontavo al collegio dei docenti per ravvivarli per rallegrarli tante cose le ho già le ho già raccontate in questa web tv on demand spiegavo loro che cosa vogliono le donne perché Sigmund Freud non era mai riuscito a rispondere alla domanda che cosa vogliono le donne io sì io lo spiegavo c'è un mio video intitolato che cosa vogliono le donne e poi gli parlavo del mio passato giovanile quando io dovetti mantenermi all'università facendo il fornaio ecco perché sono abituato io a lavorare di notte perché io facevo il fornaio ma non il fornaio quello che lo vende il pane quello che lo fa è diverso farlo il pane dal venderlo il pane si fa di notte quando gli altri dormono capito? per studiare io per poter studiare per mantenermi all'università ho fatto il fornaio per quattro annate per quattro annate cari amici io lavorava di notte e studiava di giorno per cui mi sono abituato fin da giovane a lavorare di notte a lavorare di notte e nonostante la durezza della vita la durezza della vita di notte sono riuscito a scrivere quest'opera invece questa l'ho scritta mentre sono in pensione e per cui ha fatto più strada ha fatto più strada adesso sta in lingua inglese in tutto il mondo capito? in tutto il mondo cari amici beh ecco la campanella chi ride e chi piange e gli unici che ridono sono i genitori sono i genitori perché a lei a lei se la scuola durasse dalle 8 del mattino alle 8 di sera alle 20 di sera i genitori sarebbero ancora più contenti perché se fa fatica a crescere i figli è tanto dura magari è bello quando lo fai il bambino quando lo concepisci dopo no non è più tanto bello capito? non è più tanto bello perché magari il tuo principino ti può procurare pure dei gravi dispiaceri ti può procurare il tuo principino vabbè vabbè meglio che qua mi fermo ok? la campanella chi piange chi ride ok cari amici grazie e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni